professoressa maggio intanto congratulazioni volevo chiederle sul piano personale e su quello professionale che cosa significa questo riconoscimento nei tuoi confronti intanto molte grazie è un momento molto significativo per me perché sono chiamata a comporre un gruppo di lavoro delle commissioni ministeriali che devono predisporre i decreti delegati in attuazione della legge 134 del 2021 e quindi per me un onore e credo di essere anche investita di un importante onere nella predisposizione di questi decreti con un gruppo di lavoro straordinario che è capitanato dal professor ceretti dell'università di milano e poi composto da ulteriori membri che provengono dalla realtà dell'università italiana ma anche giudici e magistrati di sorveglianza e avvocati quindi un gruppo composito eh che ha una linea di delega abbastanza ampia e dobbiamo intervenire nell'ambito di questa delega per me la prima esperienza da legislatore o comunque da soggetto chiamato a predisporre un testo da offrire al al governo che è delegato e quindi sono particolarmente contenta ma anche particolarmente preoccupata di questo compito è comprensibile ricordiamo eh la legge delega stabilisce che su questo tema il parlamento eh chiede al governo di legiferare ecco per chiarire questo passaggio che credo non sia secondario perché giustamente parliamo ad una platea che magari non tutta è in grado di fare questo tipo di riflessione volevo chiederle in particolare lei di quale argomento lei è insieme al gruppo di cui farà parte di quale argomento che occuperete di questa riforma? Allora il respiro della riforma è molto ampio come sapete tocca diversi campi del processo penale dalle indagini all'udizio di primo grado alle impugnazioni a tutto il sistema delle confische e poi affronta il tema della giustizia riparativa ed è proprio su questo tavolo di lavoro che io sarò chiamata a portare il mio eh contributo quindi io mi occuperò di giustizia riparativa che devo dirvi è il tratto dominante ehm dell'idea della ministra cartabbia eh di eh modifica del sistema penale lei da sempre anche diciamo nell'importante ruolo di giudice costituzionale di presidente della corte costituzionale ha sempre promosso questa visione della giustizia penale non solo punitiva retributiva ma anche riparativa ecco riparativa eh ci fa capire ancora meglio di cosa si tratta cosa significa? Allora esemplificando eh l'idea della giustizia riparativa che è molto risalente direi che ha anche delle connotazioni etiche e se volete religiose quindi è molto eh lontana nel tempo è stata ripresa ehm negli ultimi anni devo dire anche con grande eh forza dagli studiosi eh della della mia disciplina del diritto processuale penale nella consapevolezza che la giustizia che abbina il male al male per intenderci la pena classica eh soprattutto il carcere al male commesso spesso non riesce a raggiungere alcuno scopo né a soddisfare la società e la persona offesa che ha subito la violazione né soprattutto a rieducare chi ha commesso il reato che è eh l'obiettivo di fondo costituzionale impresso nell'articolo ventisette della nostra costituzione cioè la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e deve essere umana. Ora proprio questa presa di consapevolezza sempre più forte negli ultimi anni della incapacità della giustizia nella sua essenza punitiva di risolvere i problemi eh penali ha fatto volgere lo sguardo verso forme di riparazione che significano composizione del conflitto che il reato crea attraverso l'incontro la conciliazione di chi? Del reo cioè di chi ha commesso il reato e della vittima della persona offesa davanti a un mediatore che è il giudice terzo imparziale. Quindi dovete pensare non più alla bilancia con la spada no? L'idea classica eh della della giustizia che punisce e la spada ma all'idea che su questa bilancia che simboleggia da sempre la giustizia ci sia una rosa cioè la capacità di eh porgere e di trovare dei luoghi procedimentali all'interno del processo per questo hanno chiamato me e anche dell'esecuzione della pena dei luoghi cui il reo e la vittima si possono incontrare possono in qualche modo pacificare sanare questo conflitto e la punizione possa essere ristorativa non solo punitiva ecco questa è l'idea di fondo e che anche se volete molto rivoluzionaria è una una bellissima sfida culturale a cui siamo chiamati tutti. Ecco lei dice sfida culturale infatti era quello che volevo chiederle rispetto a questa impostazione di quello che lei dice che io condivido personalmente però ammetterai che la percezione da parte dell'opinione pubblica è un po' lontana anche da questo tipo di eh necessità come la considera questo fatto? Le chiedo proprio un'opinione di tipo personale in questo senso. Allora io sono molto contenta ehm del segno che Marta Cartabia sta lasciando ehm nel ruolo di ministro della giustizia e quindi sono ancora più felice di essere parte di questo gruppo di lavoro perché eh il problema fondamentale massimo nel nostro paese che si è acuito negli ultimi anni è questo drammatico populismo giudiziario che porta tutti noi eh ma dobbiamo confessarcelo eh a ehm guardare a un'esigenza di giustizia eh sanguinaria. Noi vogliamo eh pene forti certe eh in qualche modo l'idea eh di una sanzione soprattutto carceraria soddisfa eh il nostro bisogno interiore di giustizia. Però io voglio dirvi e ve lo voglio dire attraverso i numeri oggi questa opportunità sono contenta di farlo che eh il sistema punitivo italiano è bacchettato continuamente dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio perché a livello sanzionatorio quello che noi realizziamo nella pratica cioè quello che c'è dentro le carceri no? E che noi spesso rifiutiamo in qualche modo di volere guardare perché al carcere nessuno vuole volgere lo sguardo è una realtà profondamente disumana che non rispetta gli standard eh che sono imposti dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione Europea e anche da quanto ci dicono eh tutte le componenti internazionali che vigilano per fortuna sui nostri istituti penitenziali. Di questo dobbiamo prendere atto e dobbiamo farlo attraverso io lo dico ai miei studenti attraverso i numeri senza implicazioni come dire eh sentimentali o politiche o anche eh se volete eh drammatizzanti ma guardare proprio i numeri noi abbiamo una capienza eh di posti nelle nostre eh nelle nostre eh dei ministri di pena che è assolutamente eh inferiore a quella eh attualmente riempita da da quella che io definisco una massa damnazionis che è fatta soprattutto di ehm ehm soggetti stranieri di soggetti che hanno da scontare pene non ehm elevate e quindi l'idea della punizione per la punizione non la dovremmo a mio modo di vedere riservare ai delitti gravi a quelli che veramente hanno necessità di un trattamento rieducativo forte ma per le altre violazioni io vi posso assicurare ve lo assicuro attraverso gli studi e i numeri per le altre violazioni le violazioni meno gravi quelle che si chiamano pene attentive e brevi il carcere non solo non adempia quella funzione costituzionale ed educativa ma posso assicurarvi che consegna alla società individui peggiori di quelli che ha ricevuto e allora una soluzione una strada soprattutto ecco lo voglio dire in maniera molto rassicurante non per tutte le tipologie di reato ma per le tipologie di reato meno gravi e una risposta diversa ecco di tipo riparativo consentirebbe al sistema di respirare perché è il motivo per cui anche noi siamo chiamati a operare in questo in questo momento lo sapete benissimo è un motivo direi di efficienza del processo noi siamo obbligati dal fatto che la tempistica la durata del processo italiano è talmente mastodontica rispetto a tutti gli standard che noi siamo stati messi come al solito sul banco degli imputati e siamo stati costretti a correre ripari ora secondo me se noi adempiamo al compito di soddisfare l'efficienza con un'idea di riparazione che può essere utile non soltanto in chiave episodica momentanea ma proprio a disegnare una nuova risposta e allora secondo me ecco è un servizio che si rende al paese che si rende anche all'Europa di cui noi facciamo parte ecco in questo spirito di servizio io devo dirvi mi sento molto responsabilizzata e spero di riuscire a realizzare il mio mandato nel miglior modo possibile lei è stata chiara su alcuni aspetti io voglio aggiungere che anche per colpa dei media molto spesso l'opinione pubblica pretende che ci sia un colpevole e non il colpevole però volevo concludere questa intervista nel ringraziarla ancora anche se lei si occuperà di un settore specifico però non posso non chiederle un commento sul dibattito che ha generato questa riforma della giustizia noi siamo passati dalle discussioni del passato sul giusto processo adesso siamo passati alle discussioni che riguardano la durata dei processi lo spirito di questa riforma è quello di accelerare il più possibile i tempi lì si inserisce la questione dei tempi della prescrizione sappiamo che c'era stata una proposta del precedente ministro della giustizia adesso l'attuale ministro ex presidente della corte costituzionale marta cartabbia sta lavorando ad un altro tipo di riforma qual è la sua opinione la prescrizione cosa significa tenere prigionieri tra virgolette delle persone sotto processo per un tempo infinito e quindi trovare una giusta soluzione qual è la sua opinione su questo glielo chiedo da naturalmente da 200 universitari allora intanto massimo il problema del tempo rispetto alla commissione del reato lo rende benissimo un'immagine in un libro straordinario di elvio fassone che racconta un dialogo tra il giudice che condanna il soggetto imputato e lo stesso condannato che negli anni gli invia un numero di missive ehm continue e e che realizza tra questi due uomini il giudice immaginate il condannato è un libro delizioso di di selledio che io definirei una poesia civile racconta proprio eh che che senso ha il tempo cui la prescrizione si lega rispetto alla commissione del reato allora ehm quando il reato si realizza massimo sicuramente realizza contestualmente una grave lesione di un interesse giuridico importante soprattutto per le vittime ma per la società tutta ora questa lesione nel tempo come fa sempre il tempo piano piano si rimargina e in dubbio anche i dolori più atroci a cui tutti noi siamo esposti no nel tempo cambiano modulano questa sofferenza di questo si è fatto sempre carico il legislatore penale nel senso che il cosiddetto tempo dell'oblio quello che passa dal momento in cui il reato si realizza fino a quando poi eh si accerta perché questo è vero problema italiano la distanza dell'accertamento alla commissione del fatto questo tempo che passa no questo questa freccia che parte dall'arco consegna un uomo diverso negli anni e allora ecco perché la prescrizione serve come istituto di garanzia a dire a chi è eh chiamato a rispondere di un reato oltre un certo tempo sei la macchina del processo non è capace a individuare la tua responsabilità a definirla e a portarla ad esecuzione perché il momento esecutivo è fondamentale ebbene allora eh non ha senso procedere a un uomo questo è il senso della prescrizione ecco come dicevi tu poco fa bene purtroppo anche la prescrizione nel precedente eh diciamo disegno cosiddetto bona fede era stato era stata piegata a ehm finalità populiste populistiche di matrice ehm repressiva che cosa ha fatto eh il governo con la ministra Cattabia insomma qual è il disegno di questa nuova maggioranza parlamentare quello di salvare un po' quel disegno originario sulla prescrizione adattandolo a esigenze direi di un parlamento un po' più pacificato su questi temi meno ehm diviso meno contrapposto e quindi ha eh in qualche modo introdotto un ehm istituto con una maggiore connotazione processuale cioè una eh un istituto che ha realizzato una sorta di eh prescrizione a due facce quella sostanziale che ha i suoi tempi e il suo compimento quella processuale che impone al processo di chiudersi entro determinati argini perché se così non è sopravverrà una dichiarazione di improcedibilità che non non dirà che il reato non si è realizzato che il soggetto non lo ha commesso dirà semplicemente che non è più procedibile non è la soluzione tecnicamente migliore e viene molto criticata anche io ho molte perplessità però è stato un tentativo come dire di rammendare questo tessuto lacerato dalla scelta della prescrizione buona fede e di trovare un contemperamento in molti passaggi di questa riforma che comunque riscrive il i precedenti testi ci sono come dire delle ragionevoli compromissioni credo che sia eh ineluttabile credo che sia ineluttabile però d'altro canto vi posso dire che nel complesso c'è una un respiro questa riforma ha un respiro e devo dirvi anche un'idea eh di eh non guardare solo al discorso dell'efficienza ma di tenere presenti anche le garanzie perché il il sistema penale la risposta penale la sanzione penale sono molto liberticide e quindi questa questa riforma ha il merito almeno di come dire cercare di compensare le ragioni della spada con quelle della rosa questo è il senso progressivo voglio chiudere se mi consente con una riflessione che le chiedo anche sulla commissione di quella che lei ha fatto riferimento poco fa quando parlava di giustizia e del tempo di come l'uomo cambia dal punto di vista umanistico mi suggerisce questo una contaminazione quasi filosofica anche del diritto lo ritiene un fatto naturale normale giusto il diritto per fortuna è una disciplina porosa io non mi sarei potuta occupare solo di diritto il diritto è storia è filosofia è religione e vive nel mondo vive nel mondo ecco perché cambia la dimensione straordinaria del diritto è che è soggetto a tutte le modifiche culturali che un sistema porta con sé il problema massimo è che la nostra democrazia che questo diritto esprime non è una democrazia pacificata e quindi purtroppo per esempio dal mio punto di vista la mia angolazione è soprattutto quella della della disciplina del diritto processuale penale io dico sempre ai miei studenti che fortuna che ho a studiare una una disciplina che considerate dalla riforma del codice che è relativamente recente 1988 ad oggi ha subito circa sicuramente 120 130 modifiche legislative cioè facciamo noi stessi fatica a come dire ricostruirla sistematicamente perché questo avviene perché proprio sul processo ci sono molti interessi politici molti interessi di repressione molti interessi e anche di altra natura pensate a tutte le modifiche che sono state ehm originate dall'esigenza di contrastare il terrorismo la mafia poi la manovra spazzacorrotti come vedete le leggi non sono eh asettiche ma esprimono proprio l'andamento eh eh del del nostro mondo che non è un mondo pacificato è un mondo in cui lo vedete bene adesso in questi ultimi giorni ci sono contrasti forti tra la magistratura e il potere politico in cui la magistratura in Italia ha avuto un peso istituzionale non paragonabile secondo me a nessun altro paese europeo e quindi sono degli equilibri che portano con sé modifiche legislative ci costringono a stare dietro a questi equilibri nuovi ma al contempo a cercare di dominarli e abbiamo dei fari non siamo soli no abbiamo la costituzione che è una eh straordinaria eh guida abbiamo la convenzione europea dei diritti dell'uomo abbiamo anche il ruolo delle corti oggi e delle delle carte sovranazionali che ci guidano quindi è un compito di grande fascino insomma è una è una una grande fortuna ehm potersene occupare con la consapevolezza ecco ehm della del legame che il diritto ha alla storia e alla politica di un paese. Volevo dire una cosa finale Massimo. Prego prego. Volevo dire grazie grazie perché Sciacca e lo ha lo ha dimostrato la mia pagina Facebook che io utilizzo molto soprattutto per le comunicazioni di lavoro per dare anche mi fa piacere fare conoscere le iniziative dell'università mi ha manifestato a tutti i livelli ringrazio la sindaca per le belle parole i miei amici i miei miei compagni di scuola eh veramente un affetto una stima che non so ecco se veramente merito eh nella quale veramente sento di ringraziare tutti. Grazie.